Con l'app ArubaPack puoi visualizzare in tempo reale tutte le notifiche relative ai messaggi di posta ricevuti e alle ricevute di accettazione o consegna. Ti basta attivare la ricezione delle notifiche. Per farlo, apri l'applicazione ArubaPack. Apri il menu, tocca Impostazioni e scegli Notifiche App. Si apre la schermata delle impostazioni del tuo dispositivo. Accedi alla sezione Notifiche e attiva le notifiche.